no io ragazzi lo sapete non ce l'ho con Luca io ovviamente quando stamattina ho detto ultimo gol su azione che risale al 13 di agosto mi riferivo al campionato l'ho dato qui scontato no? 13 agosto ultimo gol su azione e purtroppo e cioè per un attaccante contano i gol e pali le traverse Inzaghi non lo sfrutta bene no? Io ho fatto un video quest'estate se hai tempo vai a vedere occhio Lukaku che Inzaghi non è Conte cioè anche lì Conte Inzaghi Conte a me non piace ma non mettiamo Conte con Inzaghi Conte di un altro livello rispetto ad Inzaghi come allenatore quindi è sempre parte sempre tutto dall'assù parte sempre tutto da dal cinese questo lo abbiamo detto lo sappiamo tutti cioè vendete l'Inter e lasciateci in pace ci sono dei gruppi Facebook addirittura che nascano come Funghi vendete l'Inter e lasciateci in pace cioè siamo arrivati a questi punti qui la stampa contro visto l'articolo di Lukaku della gazzetta dello sport ma la stessa gazzetta dello sport otto settimane fa parla di Zanga mercato da scudetto di cosa ragioniamo per quello io ti dico noi a noi ci rompan sempre tutti le scatole te lo ricordi Moratti come era bombardato dai giornali no? Mentre a Zanga gli viene fatto sempre il commianza te lo ripeto fino a quando non ci sarà un giornalista che si prenda in mano i cosiddetti e che chieda a Marotta mi spieghi come può un nulla tenente fare il presidente dell'Inter generando debiti giorno dopo giorno io non mi darò pace perché è questa la domanda da fare come può questo ancora essere lì a fare il presidente è questo che bisogna chiedervi perché Zanga viene intervistato dalle stesse persone stesse risposte Marotta stessa domanda stessa risposta poi dopo su Lukaku che comunque ragazzi parliamoci sinceramente cioè ve lo ripeto io gli voglio guarda gli ho voluto bene a Romelu però a parte se ne è andato e ci fece salutare da pastore però Romelu se hai voluto tornare nessuno ti ha rotto i coglioni ti hanno messo tutti in condizioni di lavorare bene cioè figlio mio io t'ho sempre difeso ma l'ultimo gol su azione in campionato tu l'ha fatto il tredici agosto con il lecce nella prima di campionato tra l'altro vogliamo ragionare Romelu e poi ti dirò di più i giocatori e chiede a sempre scusa a me non piacciono se sei a posto te non devi chiedere scusa a nessuno se giochi male ti devi prendere i fischi Romelu guadagni ottocentomila euro al mese i giocatori prendano dieci bonifici all'anno Romelu prendi ottocentocinquantamila euro al mese euro più euro meglio se giochi male devi essere fischiato Romelu a questi livelli non devi non ti devi accattivare la simpatia di nessuno e questo non mi piace perché quando sei andato via ci hai fatto salutare da pastorello ora perché fai un gol ogni sette mesi sei sempre a chiedere scusa non mi piace questo atteggiamento questo atteggiamento dalle caulo a me non piace l'inter smettisce il premio meno male io infatti ho messo il punto interrogativo stamattina mi sembrava assurda o me cosa nemmeno i primati avrebbero fatto una cosa del genere smettiscono il premio per il quarto posto mi sembra il minimo ma viene fuori l'articolo di Lukaku però attenzione perché comunque all'inter che non è il cinese l'inter non fa parte il cinese non fa parte dell'inter non ha mai fatto parte dell'inter ma all'inter le scatole bisogna le rompano perché non andate a rompere i coglioni ai cinesi e gli chiedete come fa a fare il presidente dell'inter da nulla tenente e a girare con macchine da un milione di euro perché non andate lei cinese a rompere i coglioni o da marotta invece di rompere i coglioni a noi e di far uscire le notizie apposta per rompere le scatole e cercare di destabilizzare l'ambiente anche se io vi dico una cosa a quei livelli lì quei calciatori lì con quei guadagni lì non si devono far destabilizzare né dai giornali né dalle televisioni lo so non sono cyborg sono fatti di carne e sangue come noi ma a quei livelli lì ci arrivi anche perché sei forte di testa altrimenti a quei livelli lì non ci arrivi tranne se non siamo un fenomeno devono subire determinate pressioni i giocatori devono essere abituati occhio perché c'è un calendario poi il campionato non è per nulla facile occhio il calendario occhio tanto il champions league domani sera occhio domani sono i 6.000 i tifosi del benfica vengono su in 6.000 lo sai perché noi abbiamo durato più fatica con il porto per a sud con il benfica perché il benfica ci ha attaccati ci ha concesso spazi cosa che il porto non ha fatto perché fino fino a quando non gli buttano fuori uno noi eravamo zero a zero occasioni da gol noi occasioni da gol loro in ripartenza mentre benfica è stato più spavaldo e noi abbiamo giocato meglio ci hanno concesso gli spazi quegli spazi che c'erano mancati con il porto l'allenatore del benfica se ci riaffronta in quella maniera può darsi e riperda un'altra volta ma se fa come tutti ormai in campionato caro in zaghi hanno capito hanno capito se si mettano dietro e ti lasciano la palla anche l'allenatore del benfica sono cazzi caro in zaghi perché te non hai soluzioni né variabili né idee né voglia di rischiare tantomeno di metterti in discussione perché te dai la colpa ai portieri che parano sei peggio di mazzarri quando dissi ragazzi stava piovendo l'erba è bagnata siamo a questi livelli qui ma te in zaghi cinese marotta alla fine tutti dovranno dare comunque le proprie giustificazioni in base ai risultati che verranno raggiunti cosa vogliamo ragionare bisogna essere contenti io non sono contento se siete contenti voi lo rispetto io non sono contento per niente una squadra non ha cattiveria demotivata sembra di vedere scapoli ammogliati il campionato mentre di là sembrano dei robo è così l'intero quest'anno è così la squadra imbottita di over trenta che non può mai giocare ogni tre giorni indipendentemente dall'allenatore dalle colpe che ha l'allenatore la squadra imbottita di over trenta dove andrà Mkhitaryan un trentaquattrienne giova tre partite a settimana nonostante tutto è sempre uno dei migliori ma Geo a trentasette ti ha fatto la stessa performanza dell'anno scorso è partito a bomba e poi ora non ce la fa più i fenomeni che hanno istruito questa squadra te mi dirai senza soldi ok ma i fenomeni hanno istruito questa squadra devono sapere dovrebbero sapere anzi molto meglio di me che sono un tifoso da poltrona come voi dovrebbero sapere che nel calcio non funziona se io affronto un'altra squadra nel calcio non c'è tecnica non c'è schema contro schema nel calcio serve la tecnica nel calcio bisogna sapere saltare l'uomo questa è una squadra che freseggia e arriva negli ultimi venti metri che non c'è nessuno si prende responsabilità di un tiro di un dribbling non vedi nulla è piatta gioca in maniera piatta sempre in orizzontale soprattutto quando non tirano spazi e poi scarica sempre sugli esterni che hanno due piedi come due lavatrici e cosa vogliamo ragionare non è che è tattia contro tattia è detto gioca troppo in maniera tattica questa squadra la vedi tic tac tic tac dal giuristallo tic tac tic tac fascia cross cross o fuori o sbagliato o addosso al difensore dirà lo stesso tic tac tic tac davanti davanti purtroppo Lautaro ha tirato tanto la carretta ha giocato infortunato ma ha ha comunque il suo periodo di appannamento speriamo sia finito Lukaku ragazzi è vero lo fa giocare spalle alla porta troppo schiacciato in aria non gli non c'era gli spazi ma lo sapeva Lukaku ora è possibile che in serie A indipendentemente dagli infortuni che che ha avuto il ragazzo tutto possibile essere A lui su azione l'ultimo gol ha fatto a agosto con il Lecce ti sembra normale non è normale colpa dell'allenatore lo impiega male ok ma è colpa anche del giocatore cioè bisogna ora questo punto qui tutti si devono prendere le proprie responsabilità ma guarda io sono convinto che domani l'Inter di Champions a parte peggio e con con il Monza non può fare ma domani Champions vedrai una partita diversa vedrai un atteggiamento diverso ma mi viene da dire grazie al Kaiser perché ormai questi sono tutti giocatori e si devono mettere in mostra perché il prossimo anno l'ottanta per cento di questi giocatori non ci saranno più l'allenatore si deve mettere in mostra c'hai il foglio di via da mo non lo manda via il cinese non date retta ai teatrini riunioni non lo manda via il cinese te una moto che hai già venduto la rimettereste a posto sai già che c'è l'acquiretta e te la compra e il cinese secondo te si mette a mandare via i zaghi per prendere chi chi vu con tutto rispetto teniamo i zaghi se bisogna prendere chi vu ragazzi teniamo i zaghi la squadra ultima in campionato di serie a non i Premier League o in Bundesliga una squadra ultima in serie a per dribbling riusciti questo ti dice tutto dove volevi andare con i cinese dove ora io ti dico cerchiamo di mantenere almeno livello alto in Champions League cerchiamo di arrivare a alle semifinali sarebbe un grande è un grande traguardo ma soprattutto se lo meritano i tifosi dell'Inter tutti i tifosi noi ci meritiamo almeno quella quella semifinale per tutto lo schifo e bocconi amari che questa specie di proprietà ci ha fatto ingoiare perché uno schifo del genere per quello ti diceva stiamo scrivendo la storia infatti si è visto che sta scrivendo la storia perché per uno scudetto vito e due hoppe ce ne stanno facendo di nere ce ne stanno facendo quanto ci sta costando quello scudetto dopo dieci anni e quelle due hoppe questa è la domanda che bisognerebbe farsi ha finito questa è la domanda il tifoso interista è demotivato non ce la fa più è allo stremo le parole sono queste vendete l'Inter e lasciateci in pace siamo arrivati a dei punti mai visti basta otto partite di campionato c'è la Coppa Italia ritorno contro la Juve e la Champions League vediamo cosa riuscite voi anche i giocatori ci avete rotto io voglio anche voi cosa riuscite a tirare fuori e poi dopo ognuno ragazzi si deve prendere le proprie responsabilità per quanto riguarda lui e Lukaku è inutile cioè ma secondo te no ma 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 secondo te cioè un giocatore di trent'anni anche se il Chelsea te lo dava cinquanta sessanta milioni questa qui un pensare questo giova gratis questo non è venuto per 1200 euro questo è venuto a otto milioni e mezzo ma di cosa ha ragione di là ne prendeva tredici quattordici ma qui è venuto a otto milioni e mezzo non è venuto gratis secondo te puoi fare un'operazione in base a quello che ha fatto lui quest'anno di cinquanta sessanta milioni dagli sei sette milioni all'anno puoi investire cento milioni su un trentenne che ormai anche fisicamente non ti dico che è in debacle ma quasi ma dove vuoi andare un incisi che richieste ha avuto questo giocatore qui fammi capire io lo adoravo c'ho anche la maglietta filmata che richieste ha avuto questo qui questo vedi questo dovrebbe fare un gol a partita ora lui dovrebbe fare un gol a partita lui deve smettere di chiedere scusa lukaku ascolti una cosa che devi smettere di chiedere scusa te devi fare gol sei pagato per fare gol quindi te ora dovresti fare un gol a partita poi a fine anno ci salutiamo le minestre riscaldate non funzionano mai ma anche al lite lo abbiamo visto sappiamo qualcosa noi al lite delle minestre riscaldate le minestre riscaldate non funzionano mai ti ritornano sempre conto quindi smettila di chiedere scusa lukaku e cerca di darci una mano e di fare gol se ti fa giocare troppo schiacciato in aria se non ti puliscano bene le scarpe sei un giocatore è stato pagato 115 milioni da celsi guadagni 850 mila euro al mese romelu quindi datti una mossa anche te ciao presto pelle lui l' normal cal si Grazie.